Chiese, castelli, siti archeologici, aree naturalistiche, palazzi storici, ma anche curiosità come la strada che circonda un braccio di mare a Taranto, alcuni degli esempi tra i più votati nella nona edizione dei luoghi del cuore promosso dal FAI, Fondo Ambiente Italiano. A quasi due mesi dal lancio dell'iniziativa quasi 300.000 voti ricevuti per più di 20.000 luoghi del cuore in tutta Italia che dimostra come i cittadini considerano il censimento del FAI uno strumento efficace per dar seguito all'impegno di offrire un futuro ai borghi che amano. Regione più attiva la Puglia ed in particolar modo la provincia di Taranto con due luoghi nei primi dieci classificati. Nello specifico ai vertici troviamo il Castello Aragonese di Taranto ma anche Circo un Mar Piccolo. Presente anche un territorio della provincia Massafra Col Santuario della Madonna della Scala. Per votare c'è tempo fino al 30 di novembre e si potrà fare attraverso il sito www.iluoghi del cuore.it oppure attraverso la raccolta di moduli cartacei.